Tornano le preoccupazioni della FIOM sul futuro dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona. Alla base delle preoccupazioni del sindacato c'è la scadenza della commessa Sevel al 31 dicembre 2022. Dopo di quella data non vi sono commesse per lo stabilimento sulmonese. Il sindacato chiede quindi ai candidati sindaci di esporre pubblicamente la loro posizione sulla questione Marelli già in campagna elettorale. L'Amarelli è la fabbrica più grande del territorio Peligno che attualmente occupa più di 150 lavoratori più indotto, scrive la FIOM, ma che presto si potrà trovare in una situazione che potrebbe avere ricadute occupazionali ed economiche significative che porterebbero inevitabilmente problemi economici alla città di Sulmona. La sindaca non aveva ben capito la portata del problema, fidandosi probabilmente delle rassicurazioni che arrivavano da altri fronti sindacali, secondo la FIOM. E' il primo candidato a recepire l'appello e' Andrea Gerosolimo che dichiara l'Amarelli non si tocca. Il nostro impegno sarà massimo per salvaguardare l'occupazione del nostro territorio, puntando alla valorizzazione dello stabilimento per renderlo attrattivo a un incremento della produzione, scrive l'ex assessore regionale. Chiederò un incontro con una delegazione di lavoratori, con i sindacati, al fine di conoscere la situazione e lo starò dell'arte dell'importante stabilimento sulmonese. Non possiamo permetterci che venga intaccato dalla perdita di commesse e soprattutto di posti di lavoro. Il nostro obiettivo, come abbiamo descritto nel nostro programma, è il rilancio socio-economico dell'intero territorio, a partire proprio dall'occupazione.